Incentivi e bandi per supportare gli investimenti delle imprese in tema di innovazione e sostenibilità, programmi di microcredito, corsi di formazione e aggiornamento per gli imprenditori. In arrivo anche specialisti del retail management e visual merchandising, a disposizione dei punti vendita aderenti per un orientamento e una valutazione dell'offerta con l'obiettivo di aggiungere valore alla proposta verso il cliente. Nel distrito del commercio noi abbiamo ben chiaro che dobbiamo coinvolgere il consumatore per portarlo all'impresa, per far aggiungere valore all'impresa e al territorio. Le imprese ci devono credere, ci possono credere, ci chiamino, le visiteremo, gli spiegheremo quanto valore daremo loro per risparmiare i costi e quanto valore daremo loro per aumentare i ricavi. È partita la fase 2 del distretto del commercio Friuli Orientale, il distretto delle meraviglie che coinvolge 12 comuni, Pavia di Udine e Capofila, la Camera di Commercio Pordenone-Udine, Conf Commercio, Conf Esercenti, Conf Artigianato e Banca 360 FWG. Il distretto con settembre ha in scaletta una serie di azioni condivise e approvate dall'Assemblea riunitasi giovedì 25 luglio a Palazzo di Toppo Florio a Butrio. Un sacco di obiettivi importanti, alcuni che si possono raggiungere subito, alcuni più a lungo termine, però insomma abbiamo avuto contezza di come può essere importante questo distretto e come può essere un interlocutore diretto, fattivo con le nostre attività commerciali.